Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di Queltaleale, eccoci qui con Formula 1 2012 e la nostra carriera, siamo arrivati al Gran Premio di Spagna, il quinto GP, abbiamo finito la gara del Bahrain dove abbiamo conquistato un ottimo quarto posto, abbiamo visto che qui in Spagna ci sarà un fine settimana un po' nuvoloso, comunque io ho fatto un po' di prove libere, intanto entriamo nel GP e vediamo quali sono gli obiettivi, ho fatto un po' di prove libere per fare un attimino un assetto, ne ho fatti un paio ma ne ho trovato un po' diciamo uno un po' migliore dell'altro, ne ho provati a fare un paio e tra l'altro sono discretamente pessimi entrambi perché ero riuscito a fare un discreto giro nelle prove libere ma ero uscito proprio un giro perfetto che non rifarò mai più, perché se no in genere non è semplicissimo, penso che questo sarà un GP molto difficile perché la pista mi piace molto ma è molto complicata, molto tecnica e i due asset che avevo fatto, uno era molto aggressivo però si doveva guidare troppo in modo troppo pulito perché era molto bassa l'auto, questo invece possiamo non dico saltare sui cordoli ma qualcosa ci esce ecco già ce l'ha detto, allora io direi di fare una cosa, proviamo a mettere i pneumatici duri, vediamo se li riusciamo non dico a consumare poco ma per entrare nel Q2 con i duri che poi useremo in gara in modo tale che gomme un po' usurate però se sono veramente di poco potrebbero entrare in temperatura prima in gara quindi proviamo così, settiamo il nostro assetto che è questo qui il primo, dovrebbe essere quello un po' più decente, adesso faccio vedere che cosa ho cambiato l'aerodinamica, ho messo 5 e 2 in modo tale che si bilancino tra i due visto che comunque ci sono curve molto veloci e curve molto strette e molto lente quindi ho fatto un po' una via di mezzo tra i due, la frenata l'ho lasciata così 50 e 50 e su medio quindi standard, il bilanciamento il primo l'ho aumentato di molto perché come dice lei il valore elevato ci dà una maggiore reattività della vettura e qui ci serve soprattutto per le ripartenze nelle curve più strette anche se comunque c'è un po' di meno di aderenza ma la recuperiamo tra virgolette un po' con quest'altra nel posteriore le sospensioni ho abbassato l'auto perché è una pista dove bisogna aggredire quindi è meglio mettere un'auto un po' più bassa e ho aumentato un pochino quella anteriore perché se saliamo sul cordolo e sono entrambe dure quella dietro vabbè se saltella un pochino non fa niente ma quella avanti diciamo ci pianteremo sul cordolo se non la becchiamo bene il cambio l'ho lasciato così come era solo l'ultima l'ultima marcia forse ho cambiato anche qualche rapporto centrale non mi ricordo l'ultima marcia naturalmente a fondo scala perché ci arriveremo e l'allineamento ho cambiato giusto qualcosina qui mettendo un po' diciamo diminuendo la campanatura posteriore per aumentare la stabilità in curva perché qui ci sono cure molto ampe comunque scendiamo in pista se no famonotte scendo in pista con il nostro giro ha lanciato e vediamo cosa riusciamo a combinare naturalmente ragazzi io vi ringrazio sempre per che seguite questi video cerchiamo di non piantarci anzi andiamo un po' avanti maldonato e vi invito comunque non so se già vabbè lo dirò anche in questi video a vedere il calendario delle uscite che lo metto sia in descrizione lì nella descrizione del canale c'è il calendario delle uscite settimanali e quindi controllatelo periodicamente perché lo aggiornerò di settimana in settimana appunto con le uscite i video che farò nella settimana successiva che naturalmente vabbè potrebbero sempre cambiare all'ultimo momento però in linea generale sono quelli e in descrizione trovate anche la pagina di facebook se mai volete iscrivervi alla pagina di facebook ho aperto anche una pagina maledizione adesso concentriamoci su sulla qualifica perché dobbiamo assolutamente superare il Q1 per non fare figure di merda questo primo giro diciamo lo utilizziamo per scaldare un po' le gomme per fare prendere un po' di confidenza con la pista come ho detto questa non è assolutamente facile è una bellissima pista ma molto ma molto difficile ci sono furboni come questi molto ampi che se li prendi se entri male è finita questi molto lenti che se non riparti bene qua bisogna aggredire i cordoni ma senza esagerare perchè puttana eva se facciamo così abbiamo fatto un macello merda cerchiamo di pulire le gomme prima dell'ultimo e sti cazzi ok cerchiamo di ok ma che tredicesimo ultimo no tredicesimo perchè siamo in tredici che siamo scesi in pista cazzo qua bisogna rischiare veramente tanto su questi cordoli cristo santo un po' troppo abbiamo rischiato direi puttana troia qua dove vabbè vabbè torniamo in box problemi tecnici ingegnere ributtaci in pista immediatamente perchè stiamo si siamo ultimi esclusi e un co ultimi e un altro cioè non possiamo passare da una gara del bahrain dove abbiamo fatto un clamoroso quarto posto dopo una battaglia serrata con weber ma che cazzo si ce ne andiamo parcheggiamo porca puttana caliamoci prendiamo un caffettino una brioche ca troia cioè già stiamo usando flashback appalate ancora prima di fare il giro si per annuncia un gp difficilissimo questo lo difficile è cercare lontanamente di fare di fare di meglio ancora non ho iniziato sbiegliamo la macchina che non gliela fa poi proviamo ad aggredire il cordo abbondantemente ecco questa pure se la fai in questo modo perdiamo un botto non giriamo per niente vabbè giustamente le gomme non sono fredde vabbè famo che il prossimo giro sarà quello decisivo si spera perchè se no non andiamo da nessuna parte vai con calma con calma niente la gomma anteriore e destra non si vuole pulire anche perchè ogni volta c'è la gomma a volte riusciamo fuori vabbè pazienza si ho capito ma stai calmo ci stiamo lavorando questa non ce la fa non ce la fa Ricciardo togliti dalle palle eh ti spezzo le mani eh infatti dobbiamo sfruttare questo giro se no non so ci inchiappettano prendere tutto il cordono ma senza tagliare merda gira vacca troia puttana schifosa cazzo este cazzo di visuale ogni volta da qua in curva piena curva vai vediamo che ci esce in questo cazzo di giro si ma siamo comunque fuori ce la faremo mai ok sta finendo anche il carburante e soprattutto mi se n'è andata la pedaliera maledizione torniamo in box si è scastonata la pedaliera dalla cristo di eva ca troia ecco perchè piano piano stavo perdendo i pedali siamo andati a puttane quanto manca? sei minuti cazzo cazzo giro lanciato decisivo questo ragazzi è decisivo ma come cazzo fa essere primo Ricciardo? non è umanamente possibile dovremmo passare alle gomme morbide per andare più forti e migliorare la nostra posizione in classifica non so ma noi facciamo quest'ultimo tentativo perchè questi sono vaffanculo cristo vabbè sti cazzi ehm ma si direi anche di cambiare gomme sicuramente troppo lenti ma ce la possiamo fare cerca di fare un giro veloce ce la faremo mai ma sti cazzi vai col giro lanciato a bomba mancano 3 minuti e siamo 18 e precisamente 18esimi cioè non dico di fare un qualificone da panico però almeno supera fa il culo cazzo abbiamo particolari problemi ovunque c'ho anche di derapata così guida sportiveggiante cazzo cazzo per un po' più un po' più un po' più sei è Q2 Non in questo modo Cazzo Questo è l'ultimo tentativo Che abbiamo Non proprio l'ultimo Quasi Vabbè comunque anche se lo superiamo Battagliando in questo modo Un minuto alla fine Non lascia ben sperare Come detto la botta di culo di quel giro Che avevo fatto Nelle prove libere è stata proprio una botta di culo Perché stiamo migliorando veramente di pochissimo Non riusciremo Mai a rientrare nella 30 secondi al termine della sessione Vabbè Un altro giro Dubito che riusciamo a farcela Vaffanculo cazzo Sempre in lastia Sì ma è improponibile Che Ricciardo sia primo E contro le leggi della fisica Oltre che della formula 1 Facciamo questo giro così Attente Sportiveggiante E buonanotte Anche se Presumo il carburante Finirà ben prima Della fine del giro Fate spazio Che vi investo Catroia Guarda sti bastardi E vaffanculo cazzo Porca troia Guarda sti Sì vabbè comunque Non è che Eh Abbiamo fatto peggio di prima Andate affanculo Andate a cagare va Bene Direi che le qualifiche Sono finite qui Quindi noi ci vediamo Per la gara ragazzi Partiremo Diciottesimi Quindi non si Non c'è niente Pure Ma quelli sono Fili Porca troia Bene ragazzi Quindi partiremo Ultimi Ottimo Questo gran premio Sarà uno spettacolo Allora ragazzi Io vi ringrazio ancora Per aver seguito Questo video Vi ricordo Seguite il calendario Per vedere un po' Le novità Io In questo periodo Sono un po' Impegnato Quindi replicherò Molto poco Sui video Sui risposte Quindi se mi vedete Un po' meno Non mi preoccupate Non ho il tempo Materiale Per stare Anche sul Tubo E quindi niente Seguite il Il calendario Che metterò Se volete Scrivetevi alla pagina Facebook Trovate in descrizione Noi ci vediamo Domenica Per la gara E un saluto a tutti Da Queltaleale Scrivetevi alla pagina